Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e V1 variante. I FIPD permangono rallentamenti per incidente tra Lavorie e BVOS di Cifipidi della Mazione Pisa verso Firenze. Trovino oltre un chilometro di coda per Lavori sempre verso Firenze tra Empoli ed Empoli Est, e rallentamenti in ingresso città tra Scandici e Firenze-Scandici. Siamo alla cantieristica sul raccordo Siena-Firenze, ricordiamo la chiusura notturna in orario 21.36 fino al 10 maggio nelle due direzioni tra Poggi Bonsi Sud e Colle e Valdelsa Nord per Lavori, Deviazioni e Loco. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con ragione Toscana, città meroportana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Per ora è tutto, buon viaggio.